ok allora qualsiasi due piloti che io non conosco e non so neanche... dai presentatevi allora ciao io sono Lorenzo Bartalesi io sono Elia Bartolini e il prossimo anno fate il CIV con un nuovo team quello della VR46 lo Junior Team com'è pronti per l'avventura? Pronti? Io sono prontissimo sono un carico faremo quello che si può dai daremo il massimo ma si va per vincere anche quello che si può la semana si punta a vincere e basta com'è che siete entrati in questo mondo davanti alla macchina del caffè qua bellissimo è bellissimo adesso siamo in VR nella gran bella azienda non so sembra la cosa più bella che sembra un sogno sembra com'è il rapporto con la VR qui c'è solo davanti a questa macchinetta del caffè passano un bel po' di piloti un bel po' di campioni del mondo com'è esser dentro cosa vi sta dando? è tanta roba è un'emozione bellissima finché cioè è fatica da capire ancora però cioè già che io li conosco li conosco tutti cioè siamo amici e anche allenarci insieme al Renz quando andiamo a girare è tanta roba perché vedi che loro ne sono talmente tante che anche da una minima cosa impari tanto vi allenate siete amici noi ieri eravamo lì a vederla a 100 km in verità vi siete dati degli schiaffi sì sì io ieri non ho potuto perché mi sono appena rimesso dalla caduta della prima ultima gara quindi ho detto no dai non rischiamo però ci vado ad allenare tutti i sabati è bello è bello è bello è bello chi va più forte a tutti quindi bisogna fare qualcosa bisogna trovare il modo per batterlo perché così non va bene come è il rapporto tra voi due allora vi spingete uno con l'altro è bellissimo è bello bellissimo però la competizione è altra comunque sì sempre amici scassiamo finché non ci si mette il casco siete posti sì sì va bene ci si mette il casco ci siete botte e come stile di guida come siete tu come sei più alla io sono più pulito lui invece più ma tu sei più sì sono più un animale un animale sono aggressivo sono molto quando mi schiude la vena sono molto molto tosto e lui invece no io vado più pulito vado non vado a cercare tanti rischi poi quando serve certo vado vado oltre il limite però faccio cerco di essere più pulito possibile sì corretti sì allora qual è l'obiettivo per questo ciclo per questa nuova avventura che si entra questo nuovo mondo vince vincere il campionato prima di tutto e poi per secondo arrivare davanti a questo a me il principale è vincere il campionato e sicuramente dare il mio meglio e più che star davanti a lui è star davanti a tutti quindi cioè se sto davanti a tutti sono a posto ah beh sì di solito quello quello risolve molte cose va bene allora in bocca al lupo ragazzi ciao grazie ciao ciao